Al via da oggi in Piemonte un programma gratuito di sorveglianza sanitaria per coloro che durante la vita lavorativa sono stati esposti all'amianto. Le adesioni appunto si aprono oggi, lo ha disposto la regione Piemonte attraverso l'approvazione del protocollo regionale per la sorveglianza degli ex esposti a mianto nell'ambito del documento strategico sulla tutela e salute sulla sicurezza del lavoro. Obiettivo la tutela della salute tramite la valutazione dell'esposizione, l'iscrizione nell'elenco regionale ex esposti all'amianto e l'esecuzione dei controlli sanitari periodici. L'attività può avere un ruolo importante per la diagnosi delle principali patologie neoplastiche e non neoplastiche correlate proprio all'amianto non precedentemente identificate in soggetti asintomatici. Nel caso per esempio dell'asbestosi questo potrà fra l'altro permettere l'aduzione di provvedimenti di prevenzione utili a limitare l'aggravamento della funzionalità respiratoria dovuto tra le altre cause come l'esposizione ad altre polveri minerali o il fumo. L'adesione al programma potrà avvenire sia tramite il portale regionale salute Piemonte sia con il supporto delle farmacie che hanno aderito e in alcuni casi tramite il medico di medicina generale.